Ehi, ragazzi, Gianni, mi succede anche a me che la mano mi fa gli scherzi, mi apre barattoli, mi fa... Da solo? Mi mano mette delle cose nella macchina, mi esplode il motore, capito? Mi fa delle cose, degli scherzacci proprio. Oh, ma non siete venuti al mio compleanno? Eh, mannaggia! Vi abbiamo lasciato comunque gli avanzi qua, Anna, le ha raccolti, quelle robe cadute. Insomma, quando volete venire, grazie, c'è posto anche per voi, gente. 77 anni, Gianni, non sono più le gambe delle donne, adesso sono le mani di Gianni Morandi. Vi rendete conto? 77 anni, 3 milioni di follower su Instagram, 4 milioni su TikTok, cioè, sono dei dati che fanno paura, però. Ho avuto un po' di problemi nel mio compleanno con la mano, perché ha litigato con Gherignani tutto il tempo. La mano? Sì, rifaceva il dito medio, non si arrabbiava, si sono sfasciati a chitarrate, vabbè. Poi c'è stata tutta una sorpresa, mi hanno fatto, è venuta Mina, Mina è venuta, però non si voleva far vedere, sì, non si voleva far vedere, si è nascosta sotto il tavolo, ogni tanto parlava. E lo fai? Sì, sì, poi c'erano tutti, Adela, Risa, Bonovox, Proce, Meneguzzi. Ah! Dopo Bonovox, Proce. Meneguzzi, vabbè che stai ritirando fuori. Adela e Meneguzzi. Meneguzzi, che cantava le canzoni con la regina. Poi c'è la Vannone, Fatti Bravo, all'inizio parlavano tra di loro, poi non si capivano, si sono mandati messaggi tutta la sera. Ah, giusto. Risa, Bonovox, c'era a comporre questo trio delle meraviglie. Sì, sì, sono Dardast. Sì, sì, sono Dardast. Ad un certo punto pensavo che qualcuno vomitasse, si diceva, che succede, sentite anche voi sto rumore, ragazzi. Ma che succede, andiamo a vedere, ragazzi. Cos'è? Così. Invece c'era Ruggeri che parlava con i tori. Ma dai, si come... Bua, bua, bua. Non si capiva. Poi c'erano un bordello, i conigli si volevano accoppiare con Peppe Vesicchio. No. Era una scena un po' così. Ah, perché è un po' tenerone Vesicchio. Sì. Con Venditti che per sbaglio ha dato fuoco alla cascina con la sigaretta. Vabbè, ragazzi, comunque. Poi c'era Giovanotti che cominciato a cantare, non si fermava più. E li sono andati tutti a casa. Sì, no, perché? Perché praticamente cosa è successo? Io non riuscivo a spegnere le canderie perché lui parlava e sputtava sopra. Sono stati quattro ore così. E hanno detto, vai a sputtare la casa tua, no? La banda di R101 La banda di, la banda di, la banda di R101